Dalla terrazza di una casa palestinese nella città vecchia di Ebron, la presenza dei soldati israeliani sembra lontana, ma si tratta solo di pochi metri. Eccoli dietro ai punti di osservazione sulle colline e nella pianura in mezzo ai checkpoint che blindano le strade principali. La famiglia che abita in questa casa si è vista offrire un milione di dollari per venderla ai coloni, una acquisizione che permetterebbe di allargare ulteriormente la colonia con 850 ebrei venuti a vivere e a pregare qui in mezzo ai palestinesi. I padroni di casa però non hanno ceduto, non vogliono andarsene altrove. Le loro radici, le loro vite, i loro amici sono qui. L'orizzonte è però limitato, il cuore di Ebron è ormai quasi vuoto. Israele che controlla la città vecchia ha chiuso intere strade e chiuso diversi negozi per mettere in sicurezza la colonia vicino alla tomba dei patriarchi, luogo sacro per musulmani ed ebrei. L'accesso alle tombe è controllato da diversi checkpoint, una misura di sicurezza che rallenta la vita quotidiana dei palestinesi e in particolare quella degli studenti di una scuola qui vicino, costretti a superare i controlli due volte al giorno. Tutto si giustifica con l'omaggio religioso ad Abramo e Ibrahim, la cui tomba si trova tra la moschia e la sinagoga. Il sarcofago è tra i due edifici religiosi, simbolo di una unione che allo stesso tempo è una separazione. La sensazione di pace che si prova tra queste mura è in netto contrasto con la situazione politica tra Israele e la Palestina. Ma il conflitto ha versato del sangue anche qui. Nel 1994 un ebreo, Baruch Goldstein, uccise 29 palestinesi e ne ferì più di 100 mentre erano in piena preghiera in un venerdì di Ramadan.